si chiama avanti e lui ha fatto un commento che si chiama avanti e lui vuole leggere avanti più avanti degli altri nella versione xxl diciamo xxl però non c'è scritto avanti c'è scritto avanti xxl non so neanche quanto è grande quanto pesa e tutti da niente però conosco un attimino sia Giovanni all'occo che adesso Marco che è il ragazzo con le braghe con anche questa eh pensavo che l'avessero chiamato arriviamo qui chiamiamoli tonno a botte è in qualche maniera una delle cose che sta dicendo a parte nel tonno il tonno cioè